ciao oggi faremo un video bellissimo salti indietro raccolti stoppati tre di fila qua corpo libero che facile tre di fila chi ne stoppa tre di fila passa allo step successivo se è l'unico vince se invece siete in due o in tre facciamo qualcos'altro ok per esempio avanti chi inizia vai cami è presa da slancio allora salto indietro metti di fianco per favore brava allora attenzione se stoppa bene ok 1 2 no peccato la cami non passa al turno seconda erika al è meglio che ti sposti tesoro erika il primo è di prova e ha fatto la prova lei quindi 1 2 se stoppi questo passi il turno 3 passi il turno emma quindi certo il primo è di prova fa come vuoi come l'ho detto ok 1 2 se stoppi questo passi il turno non ci credo niente emma va bene questa è prova ok va un pochino più in là dai 1 2 se stoppi questo passi il turno 3 passi il turno martina prova 1 2 2 3 passi il turno irene questa è una prova 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 Non passi il turno Giadi Mi è caduto il telefono Allora mi prendi in giro? Vado? Sì Questa è la prova Sì Dai Uno Due Se stoppi questo passi il turno Sì Ciao Passi il turno Letizia Questa è la prova Uno Però non so se è stato rimbalzo o cosa Siete d'accordo? Sì Uno Evita di farlo rimbalzare Due Se fai questo passi il turno Ciao Non passi il turno Lo dico apposta Perché sotto pressione Lì devi essere performante Lì devi essere performante Ok Questa è la prova Uno Uno Due Nooo Peccato Stavo pensando Non gli ho detto che Invece ci è pensato da sola Marti Questa è una prova Questa è per finta Uno Uno Due Tre Tre Tappasi il turno Alessia Tocca amici Tocca amici Eh Eh mi sono dimenticata Una prova Sai che ogni tanto sono smemorina eh Da adesso è gara Uno Due Se stoppi questo Passi il turno Tre Passi il turno In piedi Chi sono le finaliste Ovviamente non me le ricordo eh Allora Sono Martina Martina Erika Micol Giada Alessia Ed Emma Prendete per favore Il Cubo Grigio E facciamo battuta Salto avanti Perché vorrei fare il salto carpio Ma l'Ale non riesce Quindi facciamo Salto avanti Ok Dai Allora la sfida consiste In un salto avanti Avete una prova secca Chi stoppa Passa Passa il turno Se sarà l'unico Vince Fate un giro di prova Dai fate un giro di prova Se volete Ok Benissimo Si parte Giadi Stoppa Passa il turno Emma Peccato Sei eliminata Sei eliminata Ale Peccato Ale Eri Peccato Marti Dai decisa Marti Marti Yes Nicole Nicole Se Ok Le tre finaliste Voglio Tre Salti indietro Carpiati Stoppati Di fila Come abbiamo fatto per il salto indietro Anche per il salto raccolto Per quello carpio La prima ha fatto una prova Certo Prova Giusto Era prova Sì Come hai fatto prima Il primo è di prova E poi si parte Ciao Giadi Vai Martina Questo è di prova Adesso parte la gara Uno Due Se stoppi questo C'è probabilità Che vinci Sì Mi colla Il primo è una prova Bravissima Adesso inizia la gara Uno Due Tre Bravissime Cosa facciamo? Spinta Spinta Salto Avanti Sì Ok Va bene Va bene per voi Spinta Spinta Salto Avanti Fate una prova Ok 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 Adesso inizia la sfida Tra voi due Stoppato Stoppato Peccato Michi Vince Questa sfida Di arrivi Stoppati Martina Speriamo che questo video vi sia piaciuto Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale Lasciate tanti like Ricordatevi di attivare la campanellina Per ricevere tutte le notifiche dei nostri video Ciao 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 Ciao!